Martedì 15 agosto, assunzione della Vergine Maria, è il 227esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 138 al termine. Il sole sorge le 6 e 11, tramonta le 20 e 19. La luna si leva alle 4 e 48, tramonta le 20 e 20. Nani di Carlone, mercante veneziano di spezie, persuade i ravennati a mettersi sotto la protezione delle ali di San Marco. La Repubblica di Venezia prende così il formale possesso di Ravenna. Le previsioni per domani, prevalenza di un cielo poco nuvoloso con spazi di sereno più ampi al mattino e addensamenti sparsi e più presenti in montagna nella seconda parte della giornata. Precipitazioni all'inizio generalmente assenti, a parte una modesta possibilità di occasionali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi a ridosso delle prealpi nelle primissime ore. In seguito probabili alcuni rovesci o temporali sulle zone montane, non esclusi più localmente anche sulla fascia pedemontana e occasionalmente sul resto della pianura interna. Temperature minime in contenuto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve cado su quelle montane, massime stazionarie salvo locali modeste diminuzioni in montagna.